non è vero no vero allora oggi siamo qua sulla caccia al tesoro su minecraft perché capri mi ha rubato di nuovo l'armatura esatto a me piace rubare l'armatura ok vabbè allora scusate denise abbiamo avuto un leggero ok adesso riprendiamoci che dobbiamo parlare va bene denis guarda che lì sta iniziando l'acquazzone ma scusami vabbè ok allora l'acquazzone quindi è qua praticamente mi stai dicendo vero no 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 e per l'amor del cielo dov'è da questa parte no no l'acqua si sta raffreddando vabbè qua si sta scaldando ok quindi gabrie da questa parte mi stai dicendo no così si raffredda allora adesso mi dici che si riscalda lo sento un rumore strano qua in casa allora così allora più o meno si sta scaldando ok quindi da questa parte ok si sta scaldando oh si sta capendo molto no adesso si sta raffreddando mamma mia sta sempre sta fredda sta raffreddando diventa ghiaccio quindi ok si sta scaldando ma tu mi stai spaccando leggermente timpani ma come e beh chissà forse perché lava lava è da questa parte quindi no no così la lava si sta iniziando a raffreddare allora da questa parte ne sono sicuro brutto no no così si raffredda allora da questa parte così si raffredda da questa parte si si raffredda così ancora qua e dove è che l'hai nascosta da qua da queste parti vero esatto forza come ti sei permesso ce l'avevi qui come ti sei permesso di rubarmi l'armatura bellissima l'armatura di dunis mamma mia adesso mi dai per punizione così ti devo ti devo nascondere anche io qualcosa chiaramente mi dai va bene ti do il mio tridente qualcosa che sia leggibile per mordercelo perché gabrie ha chiamato le sue cose in un modo che è meglio non sapere dunisiane meglio non sapere sì così sembra no 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 è giusto che sembra perché sei proprio tozzorollone cosa è schifoso vai al buccia si si sto guardando per terra anzi guardo in aria guarda in aria gli uccelli che volano cosa in giro sicuramente saranno grossi e grandi ma cosa sappiamo bene quali vabbè insomma evitiamo di entrare in queste in questi giochetti no perché dunisiane poi dopo sappiamo che gli uccelli a volte possono cosa volare troppo in alto troppo in basso allora tu cosa pensi prima di tutto sei impervertito no 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 ma scusa ma poi ti sei morto per tre secondi no 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 ci sono ci sono e mi ha pure spaccato i timpani ma dunisiane è completamente ma come e comunque io mi sto anche craftando una cesta adesso sto facendo la mia vanilla ciao a bene meno male sì 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 io non hai neanche la casa ora allora non prendere in giro no perché dovete sapere dunisiani che dunis ha deciso di demolire completamente la sua casa per rifarla sì 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 per rifarla completamente da capo perché però non c'è un motivo per non farla allora il motivo è che dunis deve contemplare chiaramente il design no deve pensare al design deve stare la giorno e notte a dire ah questo design va bene piuttosto che no sì 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 è una cosa molto buona da fare dunisiane avete capito bene quindi sarà bellissima la casa voi avete capito non non preoccupatevi proprio per niente dove ha eccolo qua adesso anzi adesso posso pure volare posso guardare ah ok va bene dimmi quando posso guardare ok adesso in teoria mi potresti anche ben vedere eh sì ti vedo ti vedo oddio cosa è successo niente fai finta di niente cosa sto vedendo per un secondo stavo ok puoi vedere comunque chiaramente gabri va bene ah ciao 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 scegli una direzione vai in quella direzione puzzacchione di qua allora circa da quella parte devo dire che è sempre la stessa direzione però adesso è adesso sta iniziando a raffreddarsi così no freddo come un un ghiacciaio a così invece mi devo posizionare bene sulla mia sedia perché poi chiaramente dunis impazzisce se non si posiziona perché dovete sapere che dunis fuoco comunque abri cioè ah bene non fuoco di qua vai sulla direzione dell'acqua calda ah bene sì sì bene bene proprio come vabbè quindi chiaramente dunisiani dunis ha questo potere no di no non è qui dentro di superpotere veramente tanti superpoteri no io sto parlando con i dunisiani cosa vuoi tu ah scusa scusa non volevo interrompere il tuo discorso è una di quelle persone che si intromette nei discorsi altrui eh no 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 terribili spero che no no mi raccomando anche da casa eh non fate queste cose che poi dopo fanno beh mi raccomando scherzo vabbè fate quello che volete allora a parte gabri che non può allora noi qua stiamo impazzendo come se non è qua non è qua gabri ma poi chi è stato a fare sta cosa scusa e non lo so chi è stato a fare allora prima di tutto adesso dunis dovrà usare i suoi poteri supermagici ops cosa ho fatto per vedere chi è stato chiacchiera come e anche antonix ma come me lo sarei aspettato da tutti tranne che dai miei amici no basta adesso non sono né più amico con né chiacchiera né con antonix basta perché appena suggerito madonna ma che imbecille che sono muovi il sedere idiota eh vado vado ok dimmi un po' secondo te in qua chissà dove sarà mai eh eh chissà eh sarà nella casa di nonno eh chissà mamma mia adesso comunque potrai controllare perché non è cosa stai facendo stai stai facendo i macchinari avete presente quei macchinari della fabbrica dunisiani che fanno giuccio 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 eccolo qua eh il coso ho trovato adesso prendi la cesta immediatamente va bene perché chiaramente non ok perché io non lo lascia grazie ma come eh senti ovviamente non è che la povertà vuoi che ti sbatta fuori dal server no 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 in questa casa di nonno è molto molto umile diciamo no scherzo molto bella come casa ma esatto molto bella eh allora eh ultimo vediamo che un minuto siamo circa tunisiane ci sta ci sta devo dire siamo 6 minuti e qualcosa allora va bene va bene eh va bene cosa no adesso ah questo è il mio arco pirulino con power 4 che sinceramente ah capisco un mila e poi però non guardare non guardare eh vabbè allora andrò dalla parte opposta eh va bene va bene miniera temporanea ma questo è cioè proprio nonno con codonisiani è proprio un imbecino miniera temporanea e non è mai più entrato su questo se io poi dopo vado vado a punire nonno non so se ero nonno sì 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 lo mette in castigo nell'angolo sì dunisiani avete proprio capito bene nell'angolo come proprio anche chiacchiera quella chiacchiera come si permette eh italiano gabri cosa vuol dire ciuta adesso spieghi cosa vuol dire prego è chiara la ciuta no non vuol dire ah vabbè ok facciamo che però non non puoi più chiamarla così va bene va bene come se io ti chiamassi tutto il giorno eh stupido e già lo sto facendo quindi no un istante da vabbè insomma comunque adesso dimmi un po' anche quando ci sei perché chiaramente io non è che posso stare eh io ci sono io ci sono adesso sono da casa dalla casa di nonno ok quindi adesso posso arrivare con le mie bellissime litre e dimmi un attimo sì sì vieni almeno quelle c'è lì ho allora oddio dimmi un po' dove dove si trova questa da questa parte dimmi è l'acqua no no lì si raffredda proprio se vai di là si raffredda ma scusa ma perché ti era preso un attimo di embolia cerebrale cioè nel senso di stupidaggine ma come mi avevi risposto risposto mezz'ora dopo ti sembra normale questa cosa ma come eh sì caro gabri allora da questa parte invece sì sì qua si sta scaldando ok perfetto quindi da questa parte si si scalda vuol dire che stiamo andando bene inizia a scaldarsi esatto o sempre di più giusto sempre sì sì esatto ok perfetto è ancora acqua o sta diventando fuoco dai comunque è certo che i miei amici sono molto utili spesso per fare i video no perché diciamo che a volte di ogni anni può capitare che quando si abita con altre persone ci siano queste situazioni no in cui uno si debba mutare eh beh è certo esatto a tutti capita ah ciao sei ritornato sei ritornato alla genere eh esatto sono rivissuto eh beh sei splendido come e adesso come siamo cioè come siamo messi eh l'acqua se vai cioè si scalda l'acqua no che mi sembra da questa parte mi hai praticamente detto se io no 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 è stata una cosa dunisiani probabilmente non avrete sentito niente per fortuna siamo possiamo perfettamente tagliare queste parti però insomma diciamo che possiamo anche farcela però comunque senza i consigli di gabri dunisiani non sappiamo cosa fare quindi io cioè non sappiamo dove si trova il mio arco quindi io direi che adesso facciamo eccomi ci sono ci sono ah ciao gabri io stavo iniziando a a fare un gioco che si chiama lancia il fiore rosso lancia il fiore giallo ah capisco capisco è in tua assenza pure dei razzetti lasciamo a volte ci sta lasciamo mamma mia vai gabri dimmi un po' è qua l'acqua è scaldatissima addirittura scaldatissima sì sì così lava così lava no 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 quindi da questa parte il mio pirulino l'hai messa nella cesta di anto eh sì il mio povero pirulino come lasciamo un fio due fiori e un altro fiore per ringraziare anto del per gentilmente chiaramente per aver custodito l'arco per aver custodito in modo sicuro protetto e per niente puzzolente il mio arco è vero anto comunque certo che questi rumori a volte mi fanno proprio ridere vabbè duniziani io direi che siamo giunti per fortuna alla fine di questo video è esatto per fortuna no perché se no poi qua va a finire male è malissimo molto male gabri potrebbe finire anche in africa con tutti i tasti della tastiera e infiliati giù per la vola cosa di gravità duniziani se voi non ci credete ma è proprio così quindi fateci sapere se volete vedere altri di questi video bellissimi lasciate like iscrivetevi iscrivetevi a questo canale per vedere altri di questi bellissimi video attivate la campanellina commentate con povero gabri perché anzi esatto povero gabri si scrivete povero gabri nei commenti perché chiaramente gli serve poverino mi dispiace e quindi noi ci vediamo al prossimo video ciao beniziani ciao